Grazie. Due anni, sono in dieci, uno Falco Trio, due Felsenferm, tre Forever AVI, quattro Flying Dancer, cinque Femme Fatalsi, sei Fantasprit, seconda linea, sette Florida Luby, otto Fantastic Field, nove Fanale CR, dieci Franchina Baldo, favori per Fanale CR, numero nove Antonio Di Nardo, controfavorito è Felsenferm, Jonathan Benfenati. Parte bene Felsenferm che va in vantaggio, all'esterno Forever AVI, Flying Dancer e anche Femme Fatals, soprattutto Flying Dancer, si impegna a largo, mentre sbaglia Falco Trio. Numero uno Falco Trio, squalificato. 200 metri iniziali con Felsenferm in vantaggio, insiste Flying Dancer che attacca dopo 300 metri di gara. E se ne vanno via in Pariglia, i due, completando il quarto iniziale in 38. Seconda posizione in cord sempre per Forever AVI, mentre accenna a spostare a largo Fanale CR che va direttamente in schiena ora a Flying Dancer. Trascinandosi Florida Luby, intanto 47 per i primi 600 metri di gara, viene via in terza ruota a questo punto Fanale CR. Che rompe gli indugi e al passaggio riesce con uno strappo a sfilare proprio su Felsenferm, mentre a largo migliora anche Florida Luby. Cavalli che hanno completato intanto gli 800 in 1, 2 e 1. A contatto si mantiene sempre Felsenferm, più indietro c'è Forever AVI il chilometro. In 1'17-3 con Fanale CR leader, all'esterno si impegna Florida Luby, poi Felsenferm ha spostato anche Forever AVI che va in seconda pariglia esterna, mentre appare in difficoltà Felsenferm a 400 dalla conclusione e cerca di scendere alla corda, ma non vi riesce Florida Luby. E così torna sotto Felsenferm, Florida Luby, mentre sbaglia intanto Forever AVI, sbaglia anche Felsenferm, si isola in avanti intanto Fanale CR. Numero 3, Forever AVI, squalificato. Fanale CR in netta evidenza ai 100 conclusivi, la lotta è solo per la miglior piazza. Fanale CR nettamente primo. Secondo posto ancora per Florida Luby, mentre al terzo finisce Fantaspritz, 1'16-1 con un doppio 30 a chiudere. Un minuto per l'ultimo giro, ma tutto in grande semplicità per l'allievo di Antonio Di Nardo, che rivedete nelle immagini, vince davvero di quanto vuole. Bel primo piano per Fanale CR, che conferma tutte le pressioni lasciate nelle ultime uscite, soprattutto nell'ultimo a Montegiorgio, e vince davvero molto molto bene. Buona prova anche per Florida Luby, che precede Fantaspritz. Il successo per Fanale CR è Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo al training per conto della scuderia Brianza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.